Com'è andata questo primo anno da Romagnoli? È andata benissimo, è stata una bella esperienza, faticosa, impegnativa per noi amministratori, però ci siamo riusciti. Possiamo dire che dopo un anno e poco più dall'entrata in vigore della legge 117 e quindi del nostro passaggio nella regione Emilia-Romagna, abbiamo ottenuto tantissimi risultati, tantissimi problemi sono stati risolti. Tutto questo lo dobbiamo non solo al nostro impegno, al nostro lavoro, non abbiamo fatto altro che portare avanti il mandato che ci è stato dato dai nostri elettori, dai nostri cittadini, ma questo è dovuto anche grazie al grosso impegno, al grosso lavoro che ha dedicato la regione Emilia-Romagna verso i nostri comuni, verso i nostri territori. Questo appunto lo voglio dire perché grazie a loro, grazie alla regione Emilia-Romagna e grazie anche alla provincia, tutto quello che poteva sembrare difficile, complicato, complesso, siamo riusciti a risolverlo e a ottenere grandi risultati. Quindi siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo portato avanti.